Prodotti energetici, energia elettrica e oli lubrificanti. L'attività industriale e il sistema dei trasporti non possono prescindere da queste materie, per le quali si impone un'attività di presidio cui l'agenzia provvede con costanza e metodo. Gli oltre 32 miliardi di euro di introiti annuali, derivanti dalla sola imposizione sui prodotti energetici, ne testimoniano infatti la rilevanza per il bilancio pubblico. Importanza economica, ma anche centralità dal punto di vista ambientale, in quanto settore in positivo pienamente coinvolto in un processo di transizione in chiave ecologica che si appresta negli anni a venire a entrare nel vivo. L'introduzione dei biocarburanti rappresenta il più chiaro esempio della necessità di accompagnare la filiera in un percorso di regolamentazione funzionale ad assicurare norme puntuali e controlli mirati. In tale contesto, l'agenzia dovrà dunque contribuire al governo dei mutamenti che riguarderanno la materia dell'imposizione sui prodotti soggetti ad accisa e alle altre imposte di consumo. Fondamentali per la buona riuscita di questo processo si riveleranno la dialettica con gli operatori e il ricorso a tecnologie d'avanguardia. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!